E' pronto Vladimir Weiss, va con il destro lo slovacco, palla sul secondo palo, Edu! E' il pallone, finisce in gol, Edu porta in vantaggio i Rangers di Glasgow. L'americano Edu al 34esimo minuto, esplode Ibrox, rimane a terra, credo anche infortunato, Edu. Ma il suo gol è buono nonostante anche alcune proteste dei giocatori del Valencia che ritengono che l'americano staccando vada a commettere fallo sul portiere. Invece Rizzoli convalida e 1-0 grazie a questo colpo di testa vincente di Maurice Edu. Primo gol, stagionale per lui ovviamente, primo gol in Champions.